Ok. È il mio primo autografo firmato. È dedicato a Tonia. Che cosa posso dire di Tonia? Un messaggio di pace, perché noi organizziamo il Festival della Pace. Va bene, allora un messaggio che rubo a Nelson Mandela. La pace non è un sogno, ma per costruire la pace bisogna saper sognare. Grazie.